Sei pronto a far crescere la tua impresa? Registrati sul sito di Unirete e prenota subito i tuoi appuntamenti B2B. La più grande business community del Lazio ti aspetta. Scopri le novità e preparati a fare business. Ci incontriamo il 9 e 10 giugno 2016 al Palazzo dei Congressi di Roma. Unirete. Potenziale reale.